Tg1, quando c'era Vespa, Nio Crescenti, Colombo, e io facevo una rubrita nella Tam Tam, che era il senso banale del Tg1, e cominciò con questo Tam Tam, la diciamo l'informazione spettacolo, e io mi ci trovai bellissimo. Poi continuai con Giovanni Minoni, facevo cose estremamente innovative, e bellissimo. Oggi sono molto contenta di fare questo, di partecipare a questo programma, perché come diceva l'attestante, come diceva Pierluigi, è un programma di sentimenti, di scoperta, no, no, è una scoperta, perché voglio dire che fino adesso si è parlato certo dei sentimenti in televisione, però era più una televisione del dolore, della rabbia, invece l'intenzione, e questo mi sembra anche rivoluzionare, è parlare dei bei sentimenti alla gente, credo che ne abbia bisogno, e che la Rai possa fare molto in questo senso. In periodi in cui molti si sentono soli, molti soffrono il dolore di di Mount Towns, e essere lì e dire qualcosa di gentile, ma di sentito veramente, credo che sia molto importante. Quindi ringrazio Teresa De Santis per aver pensato a me, ringrazio per i miei amici per aver pensato a me, e trovo che la cosa è bellissima. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.